Un saluto a tutti da parte di Team Vision Forex, oggi venerdì 30 settembre 2016, ci avviamo a quella che è l'ultima seduta della settimana e coincidenza vuole che sia anche l'ultima seduta del mese. Come si sta comportando nel mercato italiano? Andiamo subito a vederlo sul grafico, lo vedete qua, 16.207 punti circa. Allora, la candela che si sta formando su base daily è di colore verde, nonostante ovviamente il prezzo di chiusura di ieri, quindi il riferimento della performance odierna sia ancora in negativo, però che cosa si sta appunto sviluppando? Si sta sviluppando una candela positiva e soprattutto si sta sviluppando un falso breakout del livello tondo dei 16.000 punti. Adesso ci spostiamo su un grafico orario perché appunto la nostra view, la nostra piccola analisi, che cosa vuol farvi vedere? Vuol farvi notare che appunto il falso breakout di area 16.000 punti, stamattina il minimo odierno è arrivato a sfiorare i 15.920 punti, a tal proposito, torno un attimino indietro ricordandovi che noi, se non ricordo male il 9 di settembre, avevamo dato un piccolo short qua in area 16.880 punti con target fissati a 16.377, primo target, 15.920 punti il secondo. Beh, l'abbiamo sfiorato oggi, ma quello che appunto volevo farvi notare è che proprio il falso breakout ribassista di questo livello potrebbe far riaprire un pochino di positività sul nostro mercato. Quali sono i target appunto che possiamo andare ad individuare, target rialzisti ovviamente? Beh, li individuiamo qua fra 16.300 punti e 16.400 punti. Questo è uno scenario di brevissimo che appunto abbiamo scelto di condividere con voi. Ovviamente questa view sarà sicuramente invalidata se le quotazioni tornano e breccano a ribasso area 15.900, 15.920 punti, quindi i minimi odierni. Io direi che è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo ovviamente il nostro sito www.visionforex.info all'interno del quale potete trovare tutti i nostri appuntamenti. Come vedete dal calendario, il prossimo appuntamento in agenda è per domenica 2 ottobre, alle ore 21.30 ci sarà come sempre l'analisi flash dei mercati finanziari. Che dirvi? Vi ringrazio ancora per la cortese attenzione, vi auguro un buonissimo fine settimana e ci sentiamo ovviamente domenica sera con l'analisi flash. Ancora un grazie e alla prossima!